Grazie, sono Eleonora Artesio. Volevo soltanto riferire relativamente alla vicenda dell'esito di un'interpellanza che avevo presentato a febbraio e che è stata discussa in Consiglio Comunale a Torino ad aprile nella interlocuzione con l'assessore all'ambiente che è l'assessore che intrattiene per conto della città e su delega della sindaca i rapporti con SMAT. Quali sono stati gli elementi alla base dell'interpellanza? Esattamente quelli che sono stati richiamati nella conversazione che si sta conducendo in questa serata non potendo entrare in merito alle relazioni che intercorrono tra il socio di maggioranza di ASP cioè il comune di Asti e NOS perché questo attiene agli equilibri locali, alle scelte politiche, alla qualità dei rapporti che hanno un tono molto locale. La questione che poneva l'interpellanza era la consapevolezza o meno che il comune di Torino potesse avere relativamente ai comportamenti che definirei prevalentemente di assetto finanziario che SMAT intratteneva subentrando all'interno di compagini azionarie per la gestione di attività di multiservizi dall'acqua ai rifiuti del trasporto pubblico locale all'energia e in modo particolare il fatto che il 45% delle azioni relative a ASP erano intrattenute da soggetti nei quali il comune di Torino come ricorda ricordava Risso nella sua comunicazione precedente era fortemente presente a parte l'aspetto di IREN su cui il comune di Torino sta progressivamente dismettendo le proprie partecipazioni azionarie certamente AMIAT la cui sostenibilità economica deriva principalmente per l'85% dai ricavi del contratto di servizio con il comune di Torino a SMAT a GTT cioè l'azienda dei trasporti pubblici locali della città quindi come si configurasse il fatto che una azienda fortemente direttamente collegata alle politiche pubbliche del comune di Torino agisse come un azionista diciamo indifferenziato non connesso all'interesse delle politiche pubbliche in una società per azioni sia pure in forma minoritaria ma assumendone comunque un ruolo di carattere apicale e come lo svolgimento di questo ruolo configurasse addirittura degli elementi di conflitto relativamente agli enti locali che demandano a queste società per azioni la gestione di servizi primari e ovviamente si presume lo facciano nella tutela dell'interesse pubblico per cui risulta abbastanza curioso che una società a partecipazione pubblica si trovi all'interno di un conflitto sugli interessi pubblici quindi la reazione ricevuta dalla risposta all'interpellanza è stata molto prodotta relativamente agli aspetti di carattere formale ci mancherebbe altro cioè ci mancherebbe ancora che queste modalità non fossero supportate da una procedura assolutamente corretta dal punto di vista della legittimità formale infatti lo statuto di SMAT l'oggetto sociale dello statuto di SMAT consente di eludere e ampliare i vincoli territoriali e SMAT quindi può esercitare le proprie competenze le proprie partecipazioni al di fuori del mandato territoriale prevalente cioè di quello della città di Torino il tipo di ingresso determinato da SMAT all'interno della società NOS che per il 45% detiene le azioni di ASP è stato legittimato con espressione favorevole sia dal comune di Torino sia dagli altri comuni soci di SMAT e i risultati economici di questa operazione sono positivi quindi dal punto di vista della procedura e dal punto di vista dell'interesse le questioni sembrano essere assolutamente compatibili, coerenti, formalmente trasparenti e quindi non preoccupano, non intrigano gli aspetti delle politiche del comune di Torino ovviamente l'approccio che si sta discutendo nel corso di questa serata è un approccio di altro tipo vale a dire se progressivamente tutte quelle organizzazioni di servizi e prestazioni che nascevano su mandato di un interesse pubblico a gestire servizi essenziali si sono trasformati in soggetti che agiscono indifferentemente sul mercato finanziario individuando quali siano le partecipazioni più convenienti e quali siano gli elementi di maggiore interesse per produrre anche delle entrate rispetto alla società madre probabilmente siamo molto fuori dalla logica dei servizi pubblici essenziali e dalla logica delle funzioni politiche di tutela e di rappresentanza degli interessi generali perché ci si comporta come un qualunque altro soggetto peraltro si è in compagine anche con soggetti privati ci si comporta come qualunque altro soggetto rispetto al quale l'elemento di orientamento dei propri comportamenti e delle proprie scelte è sostanzialmente quello dell'interesse di carattere economico in più io ho un po' seguito a distanza ovviamente non è il mio territorio non è il mio ambito di influenza e quindi non potrei svolgere nulla di utile come consigliere in quel contesto il dibattito che si è sviluppato rispetto alla possibilità che a livello locale vi ha still movimento dell'acqua pubblica a posto di scorporare il tema della gestione dell'acqua dal tema della gestione delle altre funzioni e di come le situazioni di conflitto intercorse tra il socio di maggioranza comune di Astri e la compagine societaria che detiene il 45% possa produrre delle inquietudini più o meno fondate io mi auguro per l'interesse dei laboratori e per la qualità del servizio non così fondate delle inquietudini dicevo relativamente ai livelli occupazionali agli investimenti da realizzare alla stabilità della azienda nel suo insieme quindi dal nostro punto di vista il tema ritorna ad essere un tema di principio anche se tutte le questioni concrete e contingenti che riguardano questa vicenda evidentemente vanno presidiate da chi ha l'autorevolezza e la possibilità di farlo localmente dicevo una questione di principio che riguarda il fatto che appunto i beni pubblici vanno tutelati con forme di gestione pubblica che perseguono l'interesse pubblico e da questo punto di vista anche la richiesta a Torino di trasformare SMAT in azienda di carattere pubblico che ci ha visto a lungo impegnati compresa la maggioranza del consiglio comunale di Torino è significativa da questo punto di vista quindi io sostanzialmente direi che per il nostro approccio il nostro sguardo che è uno sguardo distante ma non esterno è uno sguardo distante ma non estraneo torna al nocciolo essenziale della questione cioè l'elemento della tutela dell'interesse generale attraverso una concezione pubblica dei servizi pubblici e io qui chiudo bravissima